il portiere dietro il capitale e poi tutti dietro finale coppa campioni due squadre internazionale contro i diavoli rossi arbitro signor Lamantia da sferra cavallo in campo le due squadre dietro il signor arbitro dietro il signor arbitro si nota questo silenzio perché le squadre sono concentratissimi intervistiamo i due capitani shortino che ti aspetti da questa partita ok grazie Landino tu invece va bene abbiamo capito tutto signor arbitro andiamo Champions League Grazie 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 andrea cordova cosa ti aspetti da questa partita una bella vittoria occhio che ci sono 80 milioni di persone che vi stanno guardando in bocca al lupo andrea andrea in bocca al lupo andrea in bocca al lupo